Mi sono commosso e mi veniva da piangere salutandoli. Forse perché sento la loro scelta come una condanna, quella che rischio anch'io. O perché la vecchiaia degli uomini comincia a sembrarmi così drammatica. Una grande casa che non riesci più a mantenere, un figlio lontano che non ci viene mai. Se davvero il tempo è un'illusione e se passato, presente e futuro stanno dentro questo momento, allora io sono il vecchio stanco e lui è me, l'uomo di 40 anni, appena arrivato dall'altra parte del mondo pieno di energia e di rivolta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.